Mentre Registro sta per uscire la serie dedicata a Il problema dei tre corpi, con l'incredibile opera di fantascienza cinese scritta da Liu Qixin, ma tranquilli non farò spoiler di nessun tipo. Vi basta di sapere però che al centro della trama di questo romanzo c'è Il problema dei tre corpi, appunto, quello che è uno dei più grandi problemi da punto di vista fisico-matematico che ossessiona l'umanità da secoli interi. E allora seguitemi in questo video perché voglio raccontarvi proprio di che cos'è questo problema dei tre corpi dal punto di vista fisico-matematico e che cosa c'entra l'esplorazione spaziale. Nel 1687 Isaac Newton pubblicò ai suoi Filosofie Naturalis Principia Matematica, una delle opere fondanti delle scienze fisiche. Quest'opera avrebbe letteralmente cambiato la storia, soprattutto per via di una semplice apparentemente innocua equazione, ossia la legge di gravitazione universale. In un sistema fisico con due corpi celesti, questi sono reciprocamente attratti tramite una forza chiamata gravità, che aumenta come il prodotto delle masse dei due corpi e si riduce come il quadrato delle loro distanze. La legge di gravitazione universale è pertanto una soluzione al problema dei due corpi, in cui ci sono due corpi legati dalla forza di gravità, quindi di fatto come si muovono questi corpi all'interno del sistema la legge di gravitazione universale ce lo dice, perché da questa derivano in effetti le cosiddette tre leggi di Keplero, che sono incluse all'interno della legge di gravitazione universale, e queste leggi ci dicono appunto che i corpi orbitanti lo fanno con un moto ellittico, ossia seguono una forma geometrica chiamata ellisse in cui il corpo orbitato occupa uno dei due fuochi. In realtà non è proprio così semplice, non è così diretta la cosa, nel senso che sia il corpo orbitante che quello orbitato in realtà sono entrambi i corpi orbitanti attorno al centro di massa del sistema, ossia attorno a un punto di equilibrio, un punto medio se vogliamo, tra questi due oggetti. Cioè quando diciamo che un pianeta orbita attorno al Sole in realtà non è corretto, perché sia il pianeta sia il Sole orbitano attorno a questo centro di sistema. E quindi questo baricentro, siccome il Sole ha la maggior parte della massa del sistema, allora è comunque molto vicino al Sole, per questo non sbagliamo troppo se diciamo che i pianeti orbitano appunto attorno al Sole. Però tecnicamente anche il Sole orbita attorno a questo centro di massa. Il problema dei due corpi è un problema ben definito, perché se in teoria abbiamo solo due corpi e due soltanto, non ci si devono essere altri oggetti, all'interno del sistema legati alla forza di gravità, se conosciamo i parametri orbitali di questi due corpi, ecco che possiamo calcolare qual è la loro posizione in qualunque momento del tempo. Poi nella realtà non è così, perché nel sistema Sole ci sono tanti altri corpi, ognuno ha le sue influenze, di fatto non possiamo conoscere i parametri orbitali con esattezza, ma abbiamo sempre un'incertezza, insomma quindi di fatto poi all'atto pratico non sono così semplici le cose. Però rimanendo sul piano puramente teorico, che cosa succede se aggiungiamo un altro corpo a questo sistema, se passiamo dal problema dei due corpi a quello dei tre corpi? Rispondere a questa domanda è importantissimo, anche dal punto di vista pratico, perché sono tre corpi se consideriamo la Terra, la Luna e il Sole, sono tre corpi se consideriamo il Sole, la Terra e un satellite, se consideriamo la Terra, la Luna e una sonda diretta verso la Luna, insomma sono tre corpi in tanti casi dal punto di vista pratico, poi ci arriviamo a quali sono le applicazioni pratiche di questo problema. Il problema è che il problema dei tre corpi resta un problema senza una soluzione chiara e semplice come quella di Newton. Lo stesso Newton si rese conto che quando si inserisce un terzo corpo nel sistema la faccenda si fa molto ma molto più complicata. Nella proposizione 66 del primo libro del suo Principia prende per esempio in esame il caso in cui ci siano due corpi di massa inferiore come la Terra e la Luna in orbita attorno a uno più massiccio come il Sole, ma Newton mantiene la descrizione dal punto di vista puramente qualitativo, proprio perché non sapeva come trattarlo questo problema. Ed è per questo che lui nella stessa prefazione del suo Principia definisce come imperfetta questa proposizione, la 66 appunto. Del resto era un problema che si era già reso evidente con il moto delle comete, la cui traiettoria attorno al Sole poteva essere modificata in maniera imprevedibile dal passaggio vicino a un pianeta. Questo pianeta era in grado di perturbare l'orbita della cometa portandola su delle traiettorie diverse rispetto a quelle che ci saremmo aspettati altrimenti. Capite bene che se al posto della cometa ci mettiamo una sonda spaziale, ecco che il problema diventa di grande importanza anche dal punto di vista astronautico, dal punto di vista dell'esplorazione planetaria robotica. Quindi insomma il problema dei tre corpi è noto come problema già da un bel po', almeno del 600, e in tutto questo tempo ha continuato a impegnare, impegna ancora oggi astronomi, fisici, matematici, per cercare una soluzione di utilità dal punto di vista pratico. Poi a ben vedere il problema si può generalizzare, parlare di problema degli n corpi, dove n è un qualunque numero che è maggiore di tre, perché se non è il problema dei tre corpi sarà quello dei quattro, dei cinque o dei dieci miliardi di corpi appunto. In un sistema solare in cui abbiamo una stella, otto pianeti, migliaia di pianeti nani, milioni e milioni di asteroidi o comunque corpi simili, abbiamo poi decine di miliardi di comete, abbiamo oltre 250 satelliti in orbita attorno ai pianeti, insomma mettere insieme tutti questi corpi in un sistema e studiare qual è la dinamica di questo sistema è qualcosa che chiaramente afferisce al problema degli n corpi. Limitiamoci però al problema dei tre corpi, sia perché è l'argomento del video, ma sia perché quando passiamo agli n corpi di fatto è lo stesso problema esteso, ma comunque i ragionamenti sono esattamente gli stessi. Nel 1892 il matematico francese Henri Poincaré pubblicò i suoi nuovi metodi della meccanica celeste in cui affrontò anche il problema dei tre corpi, senza però trovare una vera e propria soluzione, anzi Poincaré dimostrò che una soluzione non esiste al problema dei tre corpi e quindi non c'è modo effettivamente di avere un'equazione simile a quella di Newton per il problema dei tre corpi, figuriamoci per gli n. Cioè di fatto dimostrò che dal punto di vista matematico la dinamica dei tre corpi all'interno del sistema legato alla forza di gravità è imprevedibile, però in qualche modo noi lo risolviamo questo problema, perché come facciamo a lanciare le sonde spaziali e farle passare vicino ai pianeti senza considerare il problema dei tre corpi? Come è possibile se non c'è una soluzione calcolare per esempio una fionda gravitazionale per una sonda spaziale? L'argomento di questo video in parte è trattato in giganti ghiacciati, sulle orme delle sonde Voyager alla scoperta di Urano e Nettuno. Il mio ultimo libro, ormai lo sapete, in cui vi parlo anche appunto di questo problema dei tre corpi, soprattutto per quanto riguarda le sue implicazioni appunto per quanto riguarda la scoperta delle fionde gravitazionali. E già che ci siamo vi chiedo di mettere un like al video, di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Già facendo così mi darete una grossa mano nella prosecuzione e nell'evoluzione di questo progetto. Inoltre se volete fare di più, questo progetto è sostenuto da un piano di abbonamenti su tipi. Trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione, ma io ne approfitto per ringraziare i miei tippers perché anche grazie a loro se questo progetto può andare avanti. E torniamo a parlare del problema dei tre corpi. A un primo approccio può non sembrare così intuitivamente complicato aggiungere un corpo al sistema, però appunto l'equazione di gravitazione universale descrive proprio il problema dei due corpi, quindi non è semplicemente che noi lo estendiamo e aggiungiamo un altro corpo a pazienza. Diventa molto più complicato. Pensiamo banalmente al fatto che appunto nel problema dei due corpi abbiamo un corpo A che viene attratto da un corpo B. Il corpo B viene attratto dal corpo A ed è finita lì. Ma se aggiungiamo un corpo C vuol dire che il corpo A viene attratto sia dal corpo B che dal corpo C. Quello B sarà attratto sia dal corpo A che dal C e il C sia dall'A che dal B e tutti e tre orbiteranno in maniera caotica e complessa attorno al centro di gravità di questo sistema. In realtà dire che non esiste in assoluto una soluzione al problema dei tre corpi non è del tutto vero, in senso che quella che non esiste è una soluzione chiusa, come direbbero matematici, ossia proprio una soluzione come la legge di gravitazione universale di Newton. Un'equazione, sappiamo, che con un singolo termine è in grado di descrivere questo problema, o anche più termini. Comunque un'equazione semplice che ci permette di descrivere in maniera chiara e diretta con un numero finito di termini questo problema. Nel 1915 il matematico finlandese Karl Sundmann pubblicò la prima soluzione teorica al problema che era in grado di prevedere effettivamente il moto di tutti e tre i corpi all'interno del sistema. Poi nel 1991 il matematico statunitense Chiodong Wang riuscì a estendere anche al problema degli n corpi questa soluzione di Sundmann. Il problema è che la soluzione di Sundmann, così come anche quella di Wang per gli n corpi, non sono utili dal punto di vista pratico, perché sono una serie infinita di termini. Non c'è un termine singolo come quello della legge di Newton, ma c'è un numero infinito di termini, è proprio una serie matematica questo termine corretto e per questo si dice che la serie è troppo lenta, la soluzione è troppo lenta, cioè che vuol dire che dobbiamo calcolare un numero enorme di termini di questa soluzione per avere qualcosa che sia anche solo di vagamente utile dal punto di vista pratico. E anche con lo sviluppo dell'informatica, dei computer, dei calcoli sempre più rapidi, sono comunque troppi i termini che dobbiamo tenere in considerazione per sfruttare appunto questa soluzione. Immaginate se prima di fare ogni passo mentre camminate e doveste fare miliardi e miliardi di calcoli, è qualcosa di ovviamente infattibile. Ora tutte queste cose che ho detto valgono soprattutto se parliamo del problema dei tre corpi generale, se vogliamo, in cui ci possono essere tre corpi qualsiasi legati alla forza di gravità con masse qualunque, posizioni qualunque, velocità qualunque. Ci possiamo però mettere in alcuni casi un po' più semplici in cui imponiamo alcuni vincoli a almeno una di queste masse. Una possibilità è prendere dei rapporti ben specifici per esempio tra le masse che fanno parte del sistema. Per esempio ho trovato uno studio del 1967 in cui i tre corpi all'interno del sistema hanno una massa che è proporzionale ai numeri 3, 4 e 5 e i tre lati del triangolo che formano questi tre corpi di nuovo sono proporzionali agli stessi numeri. Ecco questo è un vincolo molto forte che poi non ha alcuna utilità pratica perché effettivamente non abbiamo la possibilità di scegliere quali masse sono in gioco e quali sono le distanze tra questi corpi. Insomma quello che abbiamo dobbiamo cercare di descrivere. Poi ci sono altri casi che invece sono estremamente utili dal punto di vista pratico che sono quelli del cosiddetto problema dei tre corpi ristretto che vuol dire che noi abbiamo di base un problema dei due corpi quindi ci sono due corpi principali ma il terzo corpo è un corpo che è insignificante dal punto di vista gravitazionale e questo è molto utile perché per esempio se abbiamo un asteroide la terra e il sole è un problema dei tre corpi ristretto. Se abbiamo una sonda spaziale un pianeta e il sole è un problema dei tre corpi ristretto. Se abbiamo la luna e la terra e una sonda spaziale di nuovo è un problema dei tre corpi ristretto. Quindi insomma ci sono tanti casi pratici in cui c'è effettivamente un problema di questo tipo e questo semplifica parecchio la questione perché di base è un problema dei due corpi con una piccola modifica e il problema dei tre corpi ristretto ma in generale il problema dei tre corpi ha ricevuto un grande impulso quando sono arrivati sulla scena degli strumenti che ci permettevano di fare dei calcoli in maniera molto più rapida ossia i computer. Negli anni 60 epoca dei primi lanci spaziali della rivoluzione informatica si iniziarono a diffondere appunto i primi computer di quelli grandi come stanze intere anche se avevano una potenza di calcolo irrisoria rispetto a quelli che utilizziamo oggi. I computer ci permissero di fare un sacco di calcoli che prima non potevamo neanche immaginare di fare a mano e arrivarono quindi le prime soluzioni numeriche per il problema dei tre corpi. Che cos'è una soluzione numerica? Ecco i matematici distinguono tra soluzioni numeriche e soluzioni analitiche. Quelli analitiche come la legge di gravitazione universale di Newton sono delle equazioni semplici che definiscono in maniera chiara e diretta la soluzione appunto a un problema. Mentre quelle numeriche sono soluzioni che attraverso la somma di tanti termini ci portano ad avvicinarci alla soluzione senza tuttavia raggiungerla. Possiamo approssimare in un certo senso quella che è la soluzione reale del problema. E questo è quello che viene fatto più o meno in qualunque campo della fisica e della scienza in generale perché i casi in cui abbiamo una soluzione analitica a un problema sono molto ma molto pochi. In quasi tutti i casi utili dal punto di vista pratico effettivamente dobbiamo approssimare la soluzione attraverso una serie di calcoli. Prendiamo un esempio molto semplice per capire che cosa intendo quando parlo di approssimazione. Facciamo finta di voler studiare l'orbita di un pianeta attorno al sole senza sapere niente di come funziona la gravità. Vediamo che se prendiamo solo un piccolo tratto dell'orbita di questo pianeta ecco che possiamo benissimo descrivere questo tratto come una retta perché in fondo se è piccola la distanza percorsa dal pianeta possiamo quasi non rendercene conto del fatto che questa devia rispetto a una retta. O meglio in prima approssimazione possiamo descriverla come una retta. Se noi poi prendiamo un tratto più lungo dell'orbita ecco che ci rendiamo rapidamente conto del fatto che la retta non funziona più perché essendo il pianeta su una traiettoria curva ovviamente devia rispetto a quella nostra retta. E allora dobbiamo aggiungere appunto una successiva approssimazione. Dobbiamo passare dalla retta magari al cerchio. Il cerchio sembra funzionare abbastanza bene anche su tratti ben più lunghi ma se poi prendiamo l'intera orbita del pianeta ci rendiamo conto che è diversa rispetto a quel cerchio perché il cerchio dobbiamo un po' schiacciarlo e formare appunto un'ellisse. E quindi ecco attraverso una serie di approssimazioni successive abbiamo descritto sempre meglio l'orbita di questo pianeta. Ora questo è un esempio molto stupido ma così funzionano i metodi numerici ossia attraverso una serie di approssimazioni successive ci avviciniamo sempre di più a quella che è la soluzione del problema e così di fatto risolviamo dal punto di vista pratico anche il problema dei tre corpi e degli n corpi. Però questa continua a essere una soluzione approssimata del problema ossia noi vediamo come si muovono questi corpi e aggiungiamo delle approssimazioni successive che ci permettono di avvicinarci sempre di più a quello che è il moto reale del corpo e questo ci permette di avvicinarci alla soluzione senza tuttavia raggiungerla mai. Ed è per questo che c'è sempre un'incertezza in quelli che sono i moti dei vari corpi celesti ed è per questo che non possiamo prevedere qual è il moto di un satellite ma anche di un asteroide nell'arco di migliaia o milioni di anni o meglio ci proviamo ma più ci allontaniamo nel tempo più c'è un'incertezza sempre più grande su quelli che sono le previsioni future del moto dei corpi ed è per questo che se prendete un'app planetario digitale insomma come Stellarium o altre simile non vi dovete fidare delle posizioni dei corpi celesti che trovate per il 10.000 avanti cristo o tra 100.000 anni non potete fidarvi perché appunto ci sono queste approssimazioni che più ci allontaniamo nel tempo più evidentemente falliscono nel prevedere il moto degli n corpi in quel caso. Comunque la possibilità di risolvere quantomeno dal punto di vista pratico anche se non teorico il problema ci permette di risolvere un sacco di problemi utili dal punto di vista pratico e vi faccio qualche esempio. I punti di Lagrange magari li avete sentiti nominare magari no sono dei punti che emergono effettivamente come una soluzione del problema dei tre corpi ossia in quel caso abbiamo appunto un problema dei tre corpi ristretto che sono il sole il pianeta e un altro corpo piccolo che all'interno del sistema può essere un asteroide può essere una sonda spaziale un telescopio spaziale o chi più ne ha più ne metta. I punti di Lagrange sono quelli in cui se mettiamo la nostra sonda per esempio si trova in equilibrio gravitazionale ci sono tre punti che sono l1 l2 e l3 che sono sulla linea che collega la terra e il sole e lì la gravità di questi due corpi si controbilancia. Se ci mettiamo la sonda può restare lì in equilibrio. Ci sono poi l4 e l5 che fanno un triangolo con i due corpi e anche lì la sonda può restare in equilibrio però ci sono delle differenze tra questi punti perché 1 2 3 che sono lungo la linea sono dei punti di equilibrio instabile ossia se noi spostiamo leggermente la sonda da lì ecco che cadrà o verso il sole o verso la terra. Se invece prendiamo i punti 4 e 5 sono dei punti di equilibrio stabile e quindi la nostra sonda può orbitare attorno a quei punti senza finire né sulla terra né sul sole. Spesso viene utilizzata questa immagine mentre i punti di equilibrio instabile sono come la cima di una collina in cui se noi facciamo rotolare la palla se la spingiamo leggermente questa rotola giù i punti l4 e l5 quelli di equilibrio stabile sono il fondo di una conca o di un fosso per cui se noi muoviamo questa la palla quella tenderà a ritornare verso il centro e appunto i punti di lagrange emergono come soluzione dal problema dei tre corpi. Un secondo caso di cui vi ho già accennato all'inizio del video è quello appunto delle fionde gravitazionali. Ora ve ne parlo lungamente nel libro di questo fatto ma le fionde gravitazionali sono esattamente ciò che emerge da una delle prime soluzioni che abbiamo del problema dei tre corpi ristretto che abbiamo ottenuto grazie appunto ai primi computer. In particolare fu Michael Minovich un matematico statunitense che negli anni 60 poteva mettere le mani su un IBM 7090 uno dei primi computer della storia e con quello risolse appunto il problema dei tre corpi dal punto di vista numerico e da lì emersi il concetto di fionde gravitazionale. Per farla semplice la fionda gravitazionale è una sorta di furto se abbiamo di energia da parte della sonda quando passa vicino al pianeta perché il pianeta orbita attorno al sole lo fa con una sua energia e quello che scoprimmo è che quando la sonda passa vicino al pianeta può in un certo senso sfruttare questa energia l'interazione gravitazionale con il pianeta per disporsi su delle traiettorie più lunghe più lente più inclinate a seconda di quello che serve per gli obiettivi di missione però questo è un fortissimo efficiente sostituto ai carburanti che altrimenti dobbiamo portare da casa insomma e questo di fatto avrebbe cambiato la storia dell'esplorazione spaziale noi oggi non lanciamo nessuna onda spaziale che non preveda almeno una fionda gravitazionale o spesso decine di fionde gravitazionali su questo si è basato il programma voyager questo fu l'obiettivo della missione mariner 10 che per la prima volta sperimentò questa tecnica per visitare un altro pianeta ossia mercurio passando vicino a venere insomma appunto fu davvero una rivoluzione dal punto di vista dell'esplorazione interplanetaria ribadisco se vi interessa questo discorso giganti ghiacciati il problema dei tre corpi ristretto ha un ruolo anche quando siamo all'interno del sistema terra luna e questa di grande interesse per quanto riguarda l'esplorazione umana della luna quando abbiamo la capsula orion diretta verso la luna come nel caso del programma artemis ecco che stiamo parlando esattamente di questo ossia la terra la luna i due corpi principali e la capsula orion che è il terzo corpo insignificante dal punto di vista gravitazionale e quindi per calcolare le traiettorie di questa sonda dobbiamo esattamente sfruttare il problema dei tre corpi ristretto e quindi calcolare le traiettorie possibili di questa sonda attraverso un'analisi numerica del problema è un problema dei tre corpi ristretto anche quello di sole giove e un asteroide asteroide di quelli troiani per esempio che appunto si trovano nei punti lagrangiani quindi di nuovo si al problema di prima ma anche gli asteroidi all'interno della fascia principale su questo adesso non mi sia dentro perché ve l'ho già parlato ampiamente in un altro video che è quello che si chiama no giove non ci difende degli asteroidi in cui vi parlo dell'interazione tra giove e la fascia principale nel caso dei satelliti in orbita attorno alla terra dipende in realtà un po poi dalla da quanto sono alti rispetto alla superficie terrestre perché quelli in orbita bassa come hubble la stazione spaziale di fatto della luna non gliene frega niente manco del sole di fatto lì domina comunque la gravità della terra ma quando prendiamo i satelliti più lontani quelli magari nelle orbite geostazionari e oltre 36.000 km dalla superficie ecco che di nuovo è un problema dei tre corpi ristretto terra luna e satellite il problema dei tre corpi non ristretto ha un'applicazione nel momento in cui vogliamo studiare per esempio un sistema solare semplificato in cui ci sia il sole giove saturno che è qualcosa che ha senso dal punto di vista fisico perché gli altri corpi comunque sono molto piccoli oppure nel caso in cui studiamo un sistema di esopianeti in cui ci siano due giganti gassosi e una stella centrale o al contrario quando abbiamo un solo pianeta ma due stelle e di questo di nuovo ve ne ho parlato in un altro video con l'uscito l'anno scorso per lo star wars day in cui mi ponevo questa domanda ossia è possibile un pianeta circunbinario ossia un pianeta in cui ci siano due stelle come tatooine di star wars e anche per questo vi rimando a quel video potrei continuare ancora a lungo però mi sei anche scaricata la luce ma il punto comunque è questo ossia tutti i casi in cui considerate tre corpi legati alla forza di gravità sono esattamente un problema dei tre corpi e quindi possiamo studiarlo quantomeno dal punto di vista numerico anche se non possiamo farlo dal punto di vista teorico è comunque complicato avere una soluzione numerica ma quantomeno ci offre uno spiraglio se abbiamo in soluzione che ci permette di avvicinarci a una soluzione quantomeno utile dal punto di vista pratico io con questo vi ringrazio per avermi seguito fino a qui vi invito nuovamente a iscrivervi al canale attivare la campanella mettere like al video commentare insomma tutto quello che vi viene in mente per interagire con questo video e inoltre vi ricordo che abbiamo anche un gruppo telegram con gli esploratori e gli esploratrici del cosmo e un canale telegram di cui trovate il link qui sotto in descrizione insieme al link del libro o il link della pagina tp e insomma vari modi che avete per sostenere questo canale ciao e alla prossima